Io dicevo c'è strada molta ancora da fare, c'è da cambiare ancora molto, abbiamo alle spalle dei momenti difficili e certe volte quando dico queste cose mi domando, ma sto parlando del calcio o sto parlando dell'Italia? E badate bene che i discorsi si somigliano molto e in questo senso ha avuto anche un così grande significato e una così grande presa sull'opinione pubblica, sugli italiani, la vostra straordinaria impresa.